Primo giorno di scuola per gli alunni delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria a Polla. La campanella infatti per gli alunni dell'Istituto Comprensivo è suonata in anticipo su decisione degli organismi collegiali dell'Istituto. Per tutti gli altri l'appuntamento è fissato per il 14 settembre prossimo come da calendario regionale. Tra le novità più importanti di quest'anno l'approccio alle lavagne interattive multimediali presenti in tutte le scuole del Vallo di Diano. Le lavagne presenti presso l'Istituto Comprensivo di Polla sono a disposizione in particolare degli alunni delle tre classi prime ed in genere di tutta la scuola. Scompare quindi la lavagna di Ardesia con Gessetto e Cancellino per fare posto alle nuove tecnologie informatiche e comunicative che dovrebbero permettere alle istituzioni scolastiche di adeguarsi alle normative europee che fanno leva soprattutto sulla conoscenza da parte degli alunni delle nuove tecnologie nonché della conoscenza della lingua inglese. L'Istituto Comprensivo di Polla è inserito in una rete di scuole che hanno adottato il piano di diffusione delle lavagne interattive multimediali composto da Caselle in Pittari, Sassano, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Sant'Arsenio e Sanza.